Il primo riguarda la partecipazione, diciamo così, di altri imprenditori. Io ci aggiungerei anche della politica e dell'imprenditoria locale, oltre all'imprenditoria anche della politica locale. È un discorso antico che torna sempre. Non voglio fare più il Presidente, perché il Presidente rimane a vita fino a tagliare la tele, perché il Presidente non è solo quello che caccia i soldi, ma è anche quello che si impegna. Alla fine l'impegno del campo forse vale anche più del denaro, quindi il Presidente ci rappresenta bene. Per noi dobbiamo dare una sicurezza a Pino, che lui magari si dedica più al settore tecnico, ai giovani, del campo, di tutte le problematiche che abbiamo sull'isola, anche di logistica. Quindi Pino sarà sul campo e noi insieme a tutti gli schitani che vorranno entrare in società, perché qui nessuno vuole fare padre e padrone. Il mio modello di società è sempre quello di unire le forze, di unire imprenditori sani, e mettere i soldi subito, perché i soldi servono da subito a settembre, già abbiamo le prime scadenze. Quindi chiunque vuole fare parte di questo progetto, entrare in società anche con una minima quota, fare un'attività popolare, è stato sempre il mio crucio, anche all'epoca il Napoli maschile, l'abbiamo fatto con Napoli femminile, e abbiamo fatto un grandissimo scettato, andando in Serie A, io spero di uscire anche a fare Ischia, e Pino sarà tranquillo e si dedica a quello che sa fare meglio, la parte tecnica, e io a quello che so fare meglio, a fare una grande azienda.